Com'è il sacchino? C'è il cos'è il cos'è il cos'è il cos'è? Alla moda di San Flavio, alla moda di Dolu e Varriclarso come le vostre varie sono meravigliose Tengo i nostri giusti in terra Io alla macchina ciao E mi ha fatto vedere la settimana con delle io E' quello che ha fatto vedere la settimana con delle io Perciò che significa a che stigione Sì, vedi che taglia in due una specie di cosa così. Scusate, vedi dove finisce? Scusate, vedi dove finisce? Scusate, vedi dove finisce? Scusate, vedi dove finisce?